Scarico sotto per Cesana, Davide Terraneo ruba il pallone e poi Cesana commette fallo da terra, Lollo, due tiri liberi per il nostro Davide Terraneo, fallo commesso da Cesana che ha qualcosa da dire agli arbitri. Primo libero per Davide Terraneo, 51-50 basket Calolzio, buono il primo libero di Davide, ottimo, 51 pari, 1-22 da giocare, Davide 2, bravissimo Davide, secondo libero di Davide, Pandemonial, Palla Madonna di Rovello, 1-20 da giocare ancora. Chiamano lo schema L, Cesana, Cesana ancora, blocco irregolare da parte di Davide Terraneo, non ci credo, ancora 15 da giocare e Corbetta che blocca in alto. Hanno tolto Traore, c'è Corbetta, prende la palla Paduano, Paduano per Amadio, Amadio per Cesana che perde il pallone, perde la maniglia, Davide Terraneo allora si ferma, sotto per Botti, fuori per Davide. Cerchiamo una bomba di Lollo o una penetrazione di Boss, Boss, Botti, Botti per Davide, 10, 9, 8, si gira, Botti, arresto e tiro di Botti, ed è buono, ed è buono! Grande Botti, 5-4, 5-1, grande Botti, più 3, Baschia Trovello, forza ragazzi, curiamo, bomba del numero 6 che va dentro. 5-4, 5-4, 5 pari, ora giocano a 2, giocano a zona, 30 secondi da giocare, 5-4, 5-4, cerchiamo di realizzare un tiro facile ragazzi, giocano a zona, giocano a zona, Boss, Boss, arresto e tiro di Boss, non va, Nicolas, no! Non conquistiamo il pallone, va per terra Nicola Sporro, cerchiamo, fallo poi di Bosa a 10 dal termine, lascialo andare, lascialo andare, boss, lascialo andare che va a tirare, dannazione, sull'uomo più bravo ai tiri liberi, lascialo andare. Ah, peccato, 2 tiri liberi e poi 10 secondi da giocare, chiameremo minuto, giocheremo nell'ultima parte di gioco, un'azione a 10 secondi dal termine, erroraccio di Bosa, erroraccio di Bosa. Peccato, buono il primo libero, che va su Tiziano, va sul ferro il primo libero, il secondo lo farà, sicuramente, è buono e poi chiamiamo minuto, più uno per i ragazzi di Calozio. Vanifichiamo una con un fallo il nostro pareggio, potevamo tranquillamente andare supplementari, ora dobbiamo disegnare uno schema da giocare in 10 secondi esatti per vedere di vincere la partita. Loro disegneranno una difesa veramente arcigna, noi abbiamo la possibilità di andare a un tiro da due, disegniamo l'azione con 10 secondi da giocare, proviamo, proviamo a giocare l'azione. C'è veramente boss, tutti attenti al disegno dell'azione di Manuel per come dobbiamo giocare, cambio nelle file della pallacanestro di Olginate intanto, è rientrato Milan, riprendiamo a giocare. Rientra Bosa, Bottinelli, Davide, Nicolas e Lollo Lanzi, vediamo cosa riusciamo a giocare in 10 secondi esatti, loro giocano a uomo, giocano a pressione su Lollo, Bosa, 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 ancora Bosa, Botti che fa suggerire il pallone, stoppatona e poi perdiamo la palla. Peccato, peccato ragazzi, perdiamo una fantastica partita, perdiamo una bellissima partita con i ragazzi, molto bella, molto bella veramente, con i ragazzi di Calozio Corte. Onore a loro che hanno vinto, molto bravi, sono veramente i leader di questo campionato, però diciamo che se non avessimo fatto questo erroraccio alla fine probabilmente l'avremmo vinta noi, chi la vinceva se la meritava. Ora, amici di Piero da Salono, vi saluto, ci vediamo alla prossima partita e procediamo con le nostre interviste. Buonasera. Siamo con Alfredo Bertari, head coach di questa fantastica pallacanestro Calozio che anche stasera ha fatto una partita, oserei dire, molto molto bella. Come hai visto innanzitutto i tuoi ragazzi? Sì, stasera bravi a quelli di Rovello perché ci hanno messo in difficoltà, noi in attacco siamo un po' più fluidi solitamente, riusciamo a muovere la palla meglio, a trovare i tiri migliori, per cui onore al merito loro che ci hanno creato grosse difficoltà. Poi, vabbè, alla fine secondo me sono gli eventi, le due bombe di Paduano sono state importanti, abbiamo fatto tre buone difese, quella prima del fallo su Borghi e poi sull'ultima, quindi ci siamo stati bravi. Più o meno è tutto l'anno che facciamo così, nel senso che l'ultimo minuto magari troviamo energie per fare sempre la cosa giusta, abbiamo vinte quattro partite così, probabilmente anche la fiducia di arrivare a 15 vittorie consecutive magari aiuta. Ho visto molto bene i tuoi piccoli, ho visto molto bene Cesana, ho visto molto bene il 12 che a Corbetta sono vaderato, che ha dato veramente tanto, ho visto un po' sotto tono Traore forse, un pochino forse, non so, curato bene, piuttosto che un po' impacciato nei suoi movimenti soliti, all'andata l'ho visto molto più fluido, molto più dinamico. No, Isma è partito bene, Traore è partito bene, poi dopo abbiamo fatto un po' di fatica ad andare ancora con la palla dentro, in avvicinamento, anche Piero Corbetta nei primi due quarti ha fatto 0 su 5 sbagliando tiri da molto vicino. Ripeto, una partita complessa, venerdì sera, è una squadra che comunque ha perso una partita solo in casa, era 11-1, scontro al Vertice, due squadre che avevano da 10 vittorie loro, noi 15. Direi che sono stati molto bravi noi, molto bravi loro perché comunque alla fine i ragazzi sono neopromossa e essere qua mi sembra che sia tanta roba, onestamente. Ho visto che vi hanno tenuto bassi sul punteggio, voi siete abituati ai punteggi molto più alti, soprattutto quando giocate a casa vostra, ho visto 80-90 punti qua, 54-55, vuol dire che la difesa è stata veramente intensa. Chi ti è piaciuto degli avversari di fa? Un nome a caso? Beh, ci ha fatto molto male Terraneo, ci ha fatto molto male Terraneo, che ha attaccato il ferro, Nicola Sporro oggi ha fatto i canestri da fuori che comunque poteva essere una simiscetta, quella di riempire l'area con i nostri lunghi, coincidendo qualcosa magari a Pancino e a Nicola da fuori, ci sta, lui è stato bravo, l'anzi ha fatto le due bombe sul quale noi siamo stati magari un po' attenti perché sappiamo che potevamo fare quella roba lì, però abbiamo preso anche 54 punti, insomma non si può fare dei precisi sempre. Bene, faccio i complimenti veramente a questa bella squadra, molto intensa, molto dura, ci vediamo ai play-off sicuramente. Ciao, alla prossima, ciao. Luca Botti, grande, grande ala questa sera, com'è andata? Com'hai visto la tua partita innanzitutto? Vabbè, non voglio parlare singolarmente perché tutti abbiamo fatto una bella partita, molto intensa, punteggio non altissimo ma comunque grande difesa da parte nostra, loro vabbè sono premi, vengono con questa 16 vittoria di fila, quindi un'ottima squadra, molto forte, purtroppo alla fine abbiamo peccato di un'esperienza proprio sul finale che quasi sembrava fatta, però vabbè capita. Ho visto molto bene questa sera il Davide Terraneo, MVP di questa sera, ho visto molto bene anche te, anche Nicolas, abbiamo giocato veramente una partita molto intensa, tenere questi qua a 55 punti quando normalmente ne fanno 75 vuol dire che abbiamo fatto una gran bella partita. Dei tuoi avversari con chi hai sportellato di più? Con Borghi forse? Con Borghi ma anche con Corbetta, è stata una bella battaglia, ce le siamo andate di Santa Regione, però vabbè alla fine è stata una partita pulita e tutto, lo riprodisco. Sono in ambiente 16 di fila, sono primi, ma la squadra potenzialmente da C1 tutta la vita e ripeto abbiamo peccato di un'esperienza e loro alla fine sono riusciti a portarla a casa, su un campo difficile. Tanto di cappello comunque a questi ragazzi, adesso ci vediamo dove, settimana prossima dove siamo a giocare? Settimana prossima siamo, non mi ricordo. Non ti ricordi, fa niente. Non lo so? Non lo so, fa niente, noi ci vediamo tra tre settimane, siamo a Garbagnate domenica e poi ci vediamo sulle frequenze di Piero D'Assolano tra tre settimane per una partita contro il Cermenate. Ciao a tutti, grazie Botti, alla prossima.